Oggi c'è questa iniziativa che è importante perché discutiamo con le quattro associazioni professionali, le più rilevanti del settore scuola, di come ricostruire anche un terreno, un tessuto comune di condivisione a partire dalle scuole. La proposta che ci viene fatta per quanto ci riguarda come CGL è molto interessante, riteniamo infatti che ripostruire un terreno professionale di dibattito, di discussione all'interno delle singole istituzioni scolastiche con il personale docente, i dirigenti scolastici e in generale con la comunità educante sia anche un mezzo per ridare forza alla partecipazione. È chiaro che le sfide in questo momento sono tante, sono anche molto difficili, però credo che la comunità scolastica abbia la forza e la capacità per rinnovarsi e a partire proprio da un processo di partecipazione più ampio e da una riflessione professionale profonda dare un grande contributo a una fase del nostro paese dove le grandi trasformazioni cambieranno e cambiano inevitabilmente anche il nostro sistema scolastico. Con la presentazione dei disegni di legge sull'autonomia differenziata si è aperto il dibattito politico ma anche sociale su appunto la devoluzione voluta con questi disegni di legge. Noi come Cislo Scuola siamo nettamente contrari all'autonomia differenziata nel settore della scuola perché l'autonomia differenziata porta a ampliare quei rivari culturali, geografici che già sono presenti sul nostro territorio. Quindi noi siamo e lo diciamo con forza e riaffermiamo il principio del sistema pubblico unitario, dell'unitarietà del sistema scolastico di istruzione pubblica italiana su cui è fondata poi tra l'altro la nostra Costituzione. Abbiamo appreso e abbiamo partecipato con convinzione e pieno interesse ad una iniziativa che tende a ripartire dal basso nel coinvolgimento degli operatori scolastici e dell'intera comunità educante intorno ad un tema di fondamentale importanza. Contrastare ogni deriva localistica, ogni deriva dirigistica e di neocentralismo è parte di una battaglia che la nostra federazione porta avanti da anni. I rischi non finiscono mai, ogni legislatura una nuova proposta, ma gli effetti negativi che questa nuova proposta di autonomia differenziata può avanzare sono sempre gli stessi. Disparità di trattamento, differenza nell'esercizio dei diritti fondamentali che la Costituzione ha sancito ormai 70 anni, 80 anni fa. La scuola è il centro di ogni cambiamento, assuma una responsabilità enorme nella formazione delle nuove generazioni, nell'istruzione e facendo in modo che il diritto ad una partecipazione democratica possa essere raggiunto da ogni persona. Se tagliamo le gambe e creiamo differenze in questo diritto, nella possibilità di esigerlo e di rappresentarlo e di viverlo ogni giorno ci poniamo in un paese il cui futuro è davvero a rischio.